Hai involucrato solo per questo? Vito, sei un senso. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Forti ammazzi. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Che facciamo? Tuo padre si fida di me. E devi fidarti anche tu. Fai quello che ti dico. Ti riporterò a casa. Ok. Leon. Bene. Filiamo via da qui. Ok. Ok. La scala. Io? Ok. Ok. Hoviti come... Partita delle nostre storie! Partita delle nostre storie! Sgli zucchinii che avete Entra? Sgla tutto qua! Sgla tutto qua! Sgla tutto qua! Col cavolo! Tranquilla, ti prendo Ehi, fidati Grazie Nido, ho trovato Aquila Reale Ricevuto Lei sta bene? Confermo Bel lavoro, Condor Uno Invio subito un elicottero Ti invio le coordinate del punto di estrazione Devi arrivare lì Proteggi Aquila Reale a ogni costo Ricevuto Presto Il tempo sta peggiorando Chiudo Attenta, è pericoloso Non ti allontanare Ok 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 Ok, a posto. Arrivano, sta vicino. Oddio, cosa è successo a queste persone? Merda! Fuori uno. Dai! Più! Aspetta! Andiamo! Lasciami stare! Lasciala stare! Aspetta! Sì, è un effetto! Avverti la prossima volta! Arriva! Ah, scu... Sì! Sì! Grazie! Di nulla! Si! Sì! 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 Ho dei nuovi articoli, straniero. Non ti deluderò. Possiamo fare una pausa? Mi spiace, dobbiamo sbrigarci. Va bene. Il tempo sta peggiorando. Vieni! Ok. Stai indietro. Va bene. Andiamo. Capito! Ahi stai! Stai indietro Ok Ahi va eso Ahi va eso Bene Ferita? No, sto bene Con me Ok 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 Voglio solo andare a casa Viene Va bene Cos'è questo posto? 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 Ashley puoi aprire dall'altro lato Luca Luca Bel lavoro Cos'è questo posto? Vieni Ok Forasteros Stai indietro Ok Andiamo Aspetta Allontanati Allontanati Ok Vieni Ok Ok Ah 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 Mi cazzo per tu... Allontanati! Va bene! Via da lì! Alla prossima! Sei in mezzo! Vieni! Ok! Mi prenderò di certo un raffreddore! Non si apre! Vieni! 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 Scusa, sono scivolato. Il prossimo. Scusa, sono scivolato. 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 Liam! Resta di qua! Ashley! Che... cosa mi succede? Ashley... è la prima volta che tossisci sangue così. Ti va di spiegarci? La tosse... il sangue... sono causati da una cosa chiamata... plaga. Ok. Hai visto quelle... persone, no? Beh, dentro di te c'è la stessa cosa. La cosa che li ha resi così. Questo, quello che ti succede, questi sintomi... non è che l'inizio. Non voglio diventare come loro. Ma tu sei... fortunata. Vedi, a questo stadio il parassita, la plaga. Può essere ancora rimosso. Con un'operazione chirurgica. Ti serve solo sapere come. E sì, la giusta attrezzatura. Quindi anche tu... Niente paura. Io ho un piano. Ma dovete fidarvi di me. Grande. Allora siamo soci. Perché ci stai... Niente domande adesso, il tempo scorre. Perché ci aiuti? Perché mi fa sentire meglio. Mettiamola così. Mi faccio vivo io. Sì.